Indagati eccellenti per la Isernia Castel di Sangro e l'inchiesta sull'80 della Procura che ha chiesto l'archiviazione, ma le parti civili si sono opposte e il 20 ottobre dovranno presentarsi in Camera di Consiglio. Viabilità nel cratere finanziati 12 interventi, i fondi serviranno a lavori che riguardano per lo più la zona del Frentano, soddisfatti i sindaci per lo stanziamento di quasi 5 milioni e mezzo di euro. I cittadini si mobilitano per difendere il Matese, è fermato un nuovo progetto per le paleoliche, e il Molise tra le percentuali più alte in Italia, a Ponte Landolfo l'incontro per non abbassare la guardia. Oggetti sulle auto, tre minori nei guai, volevamo passare il tempo, si sono giustificati così tre che colpivano le auto all'imbocco della galleria della piscina di Campobasso, segnalati dalla volante della polizia. Mirco Antenucci premiato a Rocca Vivara, l'attaccante molisano tra gli artefici della promozione della SPAL in Serie A, nel suo paese d'origine, accolto da amici e tifosi dopo la festa di Ferrara. Buon pomeriggio, un saluto dalla redazione di Telemolise, ben ritrovati all'edizione delle 14 del nostro telegiornale, dunque avete sentito dai titoli di copertina, la Procura della Repubblica di Isernia ha chiuso con una richiesta di archiviazione l'indagine sul cosiddetto lotto zero, cioè la strada che dovrebbe collegare Isernia attraverso la tangenziale alla Castel di Sangro, alla superstrada per raggiungere Castel di Sangro. Le persone indagate sono otto, nomi eccellenti, le parti civile si sono opposte all'archiviazione e dunque tutto verrà deciso il 20 ottobre in Camera di Consiglio, ma per i particolari sentiamo Enzo Di Gaetano. L'otto zero scoppia la bomba da tempo innescata, erano mesi che si parlava di indagati eccellenti per la bretella da 150 milioni che dovrebbe collegare la tangenziale di Isernia all'imbocco della superstrada Isernia-Castel di Sangro ed ora la notizia è venuta fuori. Si tratta di sei amministratori dell'ex giunta comunale in carico fino a 2016, insieme a due tecnici, sempre del Comune di Isernia, che il prossimo 20 ottobre dovranno presentarsi tutti insieme in Camera di Consiglio al Tribunale davanti al GIP Vera e Aselli. La notizia buona per loro è che la Procura aveva chiesto l'archiviazione, quella cattiva è che il GIP, ritenendo fondata l'opposizione delle parti civili, ha convocato una Camera di Consiglio per decidere se l'inchiesta debba comunque continuare oppure finire sul binario morto dell'archiviazione. Nasce tutto da un esposto presentato contro il Comune di Isernia dal Comitato 980, una denuncia che metteva in discussione alcune presunte irregolarità, mancanza di firme su diverse tavole tecniche, documenti mancanti nella progettazione, mancata sottoposizione del progetto alla valutazione della cosiddetta opzione 0, mancanza di distanze regolamentari dalle sorgenti San Martino e tanto altro ancora. Un esposto che è sostanzialmente rimasto all'esame della Procura a lungo, prima che la stessa si decidesse a chiederne l'archiviazione avvisando, come prevede la legge, anche chi lo aveva presentato, ovvero gli esponenti del Comitato 980, che paventavano gravi danni ambientali per la mastodontica opera pubblica che avrebbe addirittura messo a rischio, a causa degli scavi necessari a realizzarla, le stesse sorgenti che rivoliscono di acqua alla città di Isernia. Ma il Comitato ha fatto opposizione all'archiviazione chiesta dalla Procura e si è rivolto a G.P. Aselli, che ritenendo fondate le osservazioni presentate a suo nome dall'Avvocato Roberto D'Aloisio del Foro di Larino, ha mandato tutto in Camera di Consiglio, dove un magistrato terzo deciderà se l'inchiesta sull'80 proseguirà o meno. Intanto c'è anche un'altra novità ed è quella relativa alla conferenza di servizi svoltasi a Campobasso lo scorso 15 aprile per decidere sull'avvio dei lavori dell'80 e sulla presenza di autorizzazioni e permessi. Ma anche in questa occasione il Comitato ha fatto sentire la sua voce, motivando la sua opposizione con l'inchiesta della magistratura di Isernia ancora aperta e con tutte le contestazioni già fatte in sede di denuncia penale. Insomma una vera e propria odissea quella dell'80, un'opera pubblica contestatissima e che chissà quando vedrà la luce. Supposto che ad affossarla del tutto non ci pensi la magistratura, infatti dopo il tavolo tecnico di Campobasso l'ingegnere Mariano Nucci e Romano De Luca dell'Associazione Caponnetto già stanno predisponendo un ulteriore esposto per la procura del capologo regionale. Per entrambi resta da verificare sotto il profilo della legittimità l'intervento discrezionale dell'aggiunta regionale che avrebbe autorizzato il pagamento delle spese di progettazione per un milione e mezzo con i fondi delle aree non sviluppate e i restanti quasi 4 milioni con i fondi della coesione sociale. Parliamo ancora di viabilità rovinosa in molte zone della regione. Possono ora sorridere una dozzina di sindaci perché sono stati finanziati interventi per 5 milioni e 400 mila euro. i lavori riguarderanno soprattutto le strade nella zona del cratere. Vediamo. Dalla messa in sicurezza della provinciale 159, in particolare il tratto che da Bonefro porta sulla Bifernina all'adeguamento della 73, dal centro di Colletorto al confine della regione. 5 milioni e 400 mila euro suddivisi per 12 interventi. Il secondo accordo di programma sulla viabilità, dopo quello per il Trigno, riguarda il cratere. I lavori sono tutti appaltabili. La priorità è stata data alle arterie provinciali, le più problematiche. Il fabbisogno complessivo per entrambe le province, ha spiegato il governatore Paolo Frattura, è di circa 400 milioni. Solo il 10% può essere già soddisfatto col patto per il Molise, ma per l'aggiunta di Palazzo Vitale è solo il primo passo. Intanto stiamo concentrati anche a recuperare le economie dei 95 milioni che abbiamo speso sul vecchio FSC e che stiamo spendendo sul vecchio FSC, che dedicheremo alla viabilità, ma oggi c'è molta disparità tra il numero dei milioni che ci vogliono solo per intervenire sulle provinciali, circa 400 milioni, e le nostre disponibilità. C'è da dire però che spesso molte di queste richieste potrebbero essere davvero secondarie, quindi questo rapporto ottimizza al massimo l'utilizzo dei fondi. Ne vedremo i risultati, ma d'altronde anche dal, lo dico per correttezza, anche dal lavoro e dallo studio della Banca d'Italia viene fuori una ripresa, soprattutto sull'edilizia pubblica e sugli interventi pubblici. È a mio avviso anche frutto di questa politica che stiamo mettendo in campo. I sindaci presenti all'incontro hanno evidenziato un cambio di metodo. Sono stati loro a riunirsi e decidere gli interventi prioritari da indicare alla Regione per il finanziamento. Una volta tanto si è ragionato sull'utilizzo dell'area, quindi uscire dall'isolamento dell'area del cratere ci è sembrato una cosa fondamentale, sia per quanto riguarda il fenomeno migratorio che oramai purtroppo è allo spasimo, ma mantenere la possibilità ai giovani, alle persone che lavorano, di rimanere nelle loro abitazioni è fondamentale. Di 5 milioni e 400 mila euro, 2 e 3 sono di investimento su un'arteria importante che appunto va messa in sicurezza. Sì, questa è un'arteria che io votai nel 1996 come consigliere provinciale, unisce la zona industriale di Bonefro e arriva fino alla Bifernina passando per Casa Calenda, toglierebbe sicuramente quell'area difficile da raggiungere specialmente nel periodo invernale e quindi darebbe l'opportunità all'intero cratere di utilizzare questo percorso. In programma domani a Roma l'iniziativa della CGL nazionale sulla sanità pubblica in occasione del quarantesimo anniversario della riforma sanitaria. L'appuntamento, oltre alcune sigle della CGL, il sindacato dei pensionati parteciperà anche Rosi Bindi che terrà un Alexio Magistralis sui 40 anni di applicazione della riforma in Italia. Per il Molise interverrà Sandro Del Fattore, segretario generale della CGL Abruzzo e Molise. Il sindacato regionale ribadirà lo smantellamento della sanità pubblica in regione a favore di una privatizzazione senza uguali nel resto del Paese. Al dibattito seguirà poi una tavola rotonda che sarà condotta da Bianca Berlinguer, alla quale parteciperà anche Beatrice Lorenzin, ministro della Salute. Il Sannio si mobilita per difendere il Matese dai continui attacchi di perforazioni e pale eoliche. Il servizio. Un massiccio che unisce quattro regioni e che si snoda dal Lazio alla Puglia dando una connotazione precisa ad un'area che accomuna Molise e Campania. È la catena montuosa del Matese, attorno alla quale vivono e lavorano centinaia di migliaia di persone, ma soprattutto una distesa verde fatta di boschi e tratturi, di montagne e colline, di quella che oggi viene definita biodiversità. Quelle popolazioni da tempo sono aggredite dalla modernità che negli ultimi anni si sintetizza con un'immagine, le pale eoliche. A Ponte Landolfo, in quello che da tempo immemore fino al 1860 era stato provincia di Campobasso, si sono dati appuntamento associazioni ambientalisti, cittadini comuni e personalità, imprenditori e agricoltori con un solo unico obiettivo, preservare da ogni assalto uno degli ultimi polmoni verdi dell'Appennino centro-meridionale. Il cui sottosuolo, è stato ricordato, nasconde il più grande serbatoio d'acqua disorgente di Campania e Molise. Metterlo a rischio con scavi per interrare residui a 30, 50, 70 metri di profondità significa mettere a repentaglio le sorgenti che servono a dissetare milioni di persone. Pino Aprile, scrittore meridionalista e inviato Rai, ha definito delittuoso contro la storia, il paesaggio, contro la pastorizia e la paleontologia, contro le aree protette e gli animali, contro le popolazioni del Matese. Attuare una politica che va contro il buonsenso, che terrebbe lontano da parchi naturali e da paesaggi da favola, turisti appassionati con interventi devastanti che stravolgono il territorio, violando ciò che da millenni è arrivato quasi intatto fino ai giorni nostri. Giorni in cui emerge, secondo alcune stime, che il 70% delle paleoliche italiane sono dislocate nelle province di Avellino, Benevento, Foggia e in Molise. Per difendere il Matese a Ponte Landolfo sono intervenuti, tra gli altri, il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli, i dirigenti di Coldiretti e Confederazioni degli Agricoltori, il WWF del Sannio, che al momento hanno bloccato l'ultimo impianto di paleoliche al confine tra Campania e Molise. Anche dal versante della provincia di Campobasso gli attacchi alla zona non sono infrequenti. L'idea del Parco Nazionale del Matese, approvata anche in Parlamento, può rappresentare un'argine, ma l'impegno della conferenza di Ponte Landolfo è quello di rilanciare la battaglia e la mobilitazione del territorio, Irpino, Dauno e Sannita, per proteggere un colosso naturale che identifica l'area da qualche millennio. Nuovo capitolo del tormentone sui pochi abitanti del Molise, stavolta scatenare l'ira dei molisani sui social, è stato un tweet di Francesco Facchinetti che per esaltare il concerto di Vasco Rossi ha scritto che a Modena davanti al palco c'erano più persone che in Molise. La reazione sui social è stata immediata, Facchinetti coperto di insulti si è scusato e ha promesso di venire in vacanza con tutta la sua famiglia. Parliamo dei migranti, delle polemiche che questo tema porta con sé. A Isernia si sono rinfocolate perché dopo la decisione del Consiglio Comunale di dire no allo Sprar ne arriveranno altri 500. Ci spiega tutto Enzo Di Gaetano. Questioni migranti a Isernia, l'opposizione nei confronti del Prefetto e della sua richiesta di aderire allo Sprar continua a spaccare sia la minoranza che la maggioranza consigliare al Comune di Isernia. L'ultimo comunicato della Prefettura ha avuto l'effetto di una bottiglia Molotov lanciata su un fuoco già acceso. Sostanzialmente ha scritto Fernando Guida, poiché il Comune di Venafro ha garantito la sua adessione al progetto Sprar, nessun migrante verrà destinato alla città venafrana, restando congelata la quantità di rifugiati alle quote 2016. Mentre a Isernia, che non aderita allo Sprar, ne arriveranno altri 500. In aggiunta è più di 200 che già ci sono. Insomma, non aderire allo Sprar, secondo quando deciso dal Consiglio Comunale di Isernia a larga maggioranza, si trasformerà praticamente in un'invasione di migranti che arriveranno alla rispettabile quantità di circa 700. Inoltre, non essendoci uno Sprar, che ricordiamolo è una struttura che viene gestita direttamente dal Comune, bisogna prepararsi allo sbarco a Isernia di chissà quanti speculatori pronti a far soldi in quantità industriale con questa moderna tratta di esseri umani. Ricordiamo che per ogni migrante le strutture che li ospitano ricevono più di 30 euro a testa. Ai rifugiati va poi un pocket money di 2,5 euro al giorno. E allora affaristi e imprese improvvisate su due piedi pronti a far festa sulla pelle dei rifugiati e a dispetto di una città come Isernia, che avrebbe meritato migliore sorte. Per questo i dubbi serpeggiano sia nella minoranza che nella maggioranza di Palazzo San Francesco. Diversi cotidieri comunali stanno rivedendo la propria posizione e non è escluso che a breve ci potranno essere dei ripensamenti. Certo, la notizia che Venafro sarà esclusa dei nuovi arrivi potrebbe favorire un rapido riposizionamento delle varie rappresentanze nell'ambito del Consiglio Comunale. Come al solito toccherà a Giacomo D'Apollonio sbrogliare la matassa, ma l'impressione è che quella del sindaco di Isernia sarà decisamente un'estate calda, con Casa Pound che già si sta mobilitando in previsione di un cambio di rotta di Palazzo San Francesco. Sono stati scoperti dal volante di Campobasso in piena azione, si sono giustificati dicendo che volevano passare del tempo, ma in realtà dalla collina che sovrasta la galleria della piscina comunale lanciavano oggetti in direzione delle auto, sono stati denunciati. Lanciavano sassi e oggetti contro le auto in viaggio e per la strada. Un passatempo si sono giustificati così i tre ragazzini, una volta che sono stati bloccati dalla pattuglia della polizia. È successo ieri sera lungo la tangenziale di Campobasso, all'altezza della galleria della piscina comunale, ma il loro passatempo avrebbe potuto ferire qualcuno o danneggiare qualcosa. Per fortuna sono stati fermati prima che combinassero guai seri. Tutti e tre sono stati denunciati alla procura presso il Tribunale per i minori per danneggiamento. Sono tutti italiani e abitano in città. Ieri sera sono stati notati da pendolari e passanti mentre lanciavano sassi e oggetti contro le auto e per la strada. Una delle auto in transito ha subito anche alcuni danni, ma per fortuna nulla di grave. Qualcuno che li ha visti ha tentato di bloccarli, qualche passante ha urlato loro di andare via, ma sono andati avanti imperterriti, non curanti di essere stati redarguiti. A quel punto gli stessi passanti hanno chiamato il 113 per chiedere un intervento della polizia. Quando la pattuglia della squadra volante è giunta sul posto, i ragazzini hanno tentato di scappare. Non appena hanno visto gli uomini in divisa hanno smesso di lanciare sassi, ma non è stato difficile per gli agenti raggiungerli e bloccarli. Una volta fermati sono stati identificati e portati in questura. Volevamo passare il tempo, si sono giustificati, rispondendo ai poliziotti che chiedevano spiegazioni di quel gesto. Una bravata che è costata loro la denuncia per danneggiamento, poi sono state avvertite le rispettive famiglie. I genitori si sono quindi presentati negli uffici di Via Tiberio per riprendere i figli. Per fortuna il loro pericoloso passatempo è stato bloccato sul nascere. Si è rivelata fondamentale la telefonata al 113 da parte di chi ha tentato di fermarli, ma poi non riuscendoci ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine. L'uomo di Termoli di 50 anni è stato arrestato dalla polizia di Vasto, accusato di stalking, minacce, lesioni e interruzioni di pubblico servizio. L'uomo da tempo ossessionava una donna che lavora nell'ufficio dei servizi sociali del comune abruzzese alla quale inviava messaggi e video. La minacciata anche di morte nei giorni scorsi si era presentato sul posto di lavoro dove aveva aggredito verbalmente i colleghi e imbrattato le pareti dell'ufficio. La polizia lo ha denunciato, le indagini del GIP di Vasto hanno emesso l'ordinanza di custodia cautelare. Si è parlato di sviluppo e prospettive per un Molise organizzato a Termoli dall'Associazione Uniti per la Costituzione, Agricoltura e Turismo, i settori in cui, secondo l'Associazione, investire. Emanuela Iorio. L'Associazione Uniti per la Costituzione, nata per dare seguito alla grande mobilitazione di cittadini che hanno fatto parte del Comitato per il No in occasione del referendum, ha iniziato sul territorio una serie di incontri per trovare soluzioni concrete ai problemi quotidiani, avendo sempre come riferimento i principi fondamentali della Costituzione italiana. Si è partiti da Campobasso con un incontro sulla tutela dell'ambiente. Il secondo appuntamento c'è stato invece a Termoli, nella sala convegni dell'ex seminario dove si è parlato di occupazione e sviluppo in Molise. Come Uniti per la Costituzione abbiamo pensato di fare un ciclo di seminari per mettere a disposizione non il sapere di chi fa parte dell'Unione e degli Uniti per la Costituzione, ma utilizzando anche intelligenze locale, l'università in modo particolare, per dare possibilità ai cittadini di farsi un'opinione se ci sono delle ricette per poter uscire da questa crisi. Diversi docenti dell'Unimol chiamati a dare un contributo per cercare possibili soluzioni a una crisi che proprio la Regione Molise sta vivendo pesantemente. Non ci sono bacchette magiche ovviamente, ma fondamentale è puntare sulle risorse naturali e paesaggistiche che la Regione può vantare, sulle tradizioni, sulla cultura enogastronomica, dunque su agricoltura e turismo, come spiegato dal docente di Economia dell'Ambiente del Turismo dell'Università del Molise, Luigi Mastronardi. Secondo me il risente della congiuntura internazionale soffre in particolar modo a causa della carenza di investimenti. Propongo un intervento forte sugli investimenti e sull'innovazione. Penso che bisogna puntare sulle specificità territoriali, sui settori più legati al territorio. Mi riferisco in particolar modo all'agricoltura e al turismo. Festival itinerante del cinema spagnolo per tre sere a Campobasso, promosso dall'associazione musicale Telonio Smonchi. Il cartellone prevede la proiezione di sei pellicole selezionate dagli organizzatori, presentata oggi alla Fondazione Molise Cultura della Ex-Gil. Le tre serate cominceranno il 5 e finiranno il 7 luglio. Filmi inediti e di recente produzione. Dovremmo avere anche le immagini della presentazione. È stato detto nel corso dell'incontro che si è svolto questa mattina, come dicevamo, alla Fondazione Molise Cultura, uniti da un filo conduttore fatto di libertà espressiva nei generi che spaziano dalla black comedy al noir, dal road movie al musical. Le immagini le vedremo nella prossima edizione del telegiornale. Andiamo ora a Cerce Maggiore dove si sono svolti i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Libera. Ce ne parla Valeria Farina. È stato un momento in cui la fede ha incontrato la storia di un popolo. Nel cuore della Valle del Tamaro a Cerce Maggiore è stata celebrata come da tradizione la Madonna della Libera. Preghieri e canti hanno animato la messa solenne celebrata dall'arcivescovo Brigantini sul piazzale del santuario di fronte a tanti fedeli e alle autorità e poi durante la processione. La sentiamo molto bella, molto vicina e direi che è attualissima. Liberi per liberare, liberi per amare e servire. Il culto della Madonna della Libera che risale al 1412 risulta oggi, a distanza di secoli, ancora forte e vivo nel cuore dei tanti cercesi. Coinvolge un po' tutta anche la Valle del Tamaro, tutti i comuni inerenti a questa iniziativa della festa. Noi ci siamo preparati a celebrare questa solennità della Madonna della Libera anche attraverso un triduo. La prima serata l'abbiamo dedicata alla famiglia, la seconda serata ai giovani, la terza serata a tutti coloro che zelano il santuario. E quindi coinvolge un po' tutta la comunità cercese, dai più piccoli ai più grandi. È una festa molto sentita e con una devozione unica. A fine messa il sindaco di Cerce Maggiore, Vincenza Testa, ha parlato alla comunità sul futuro del santuario a rischio chiusura e sull'istituzione della giornata dedicata ai cercesi lontani dal paese d'origine, nell'ambito di un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. È stata la petizione perché si possa riaprire a discute il nostro santuario. auguriamoci che altri 600 anni, il minimo, di essere, non noi certo, ma di essere qui al santuario per i cercesi che verranno ancora, che potranno sempre preghiare i piedi dalla nostra carissima Madonna. Comune ha istituito la giornata proprio per gli immigranti cercesi nel mondo. Ecco, i cercesi nel mondo, non solo coloro che sono andati e sono immigrati in America, in Australia, eccetera, oppure al nord dell'Europa, per tutti i cercesi, anche per gli studenti che sono fuori, che ritornano. E c'è la giornata istituita il 3 luglio. La festa del 2 luglio, attesa e vissuta da tutta la comunità, è organizzata dal Comitato per i festeggiamenti di Santa Maria della Libera. Molto soddisfatto della manifestazione di questi giorni che oggi si è concluso con la processione di questa sera e ci hanno onorato tante persone per la loro visita. E anche a Molise sono in corso i festeggiamenti in onore di San Nicola, patrono del paese. Si concluderanno il 5 luglio. Per oggi sono in programma la messa alle 17.30, in onore dei caduti. Alle 20.30 invece appuntamento con la fiaccolata che accompagnerà la manna del santo. La serata sarà poi allietata dalla banda di Duronia. E anche quest'anno a Vasto Girardi tante persone con il naso all'insù per assistere al tradizionale Volo dell'Angelo, di cui ci parla Sergio Di Vincenzo. Vincenzo Liberatore non poteva di certo immaginare che la sua idea per festeggiare alla grande e l'inaugurazione della chiesa della Madonna delle Grazie avrebbe attirato così tante persone a Vasto Girardi. Anche quest'anno, infatti, ad assistere alla rappresentazione del Volo dell'Angelo c'erano moltissimi curiosi, provenienti da diverse regioni italiane ma anche dall'estero. A riprendere momenti salienti anche la troupe di una tv giapponese. Mentre tra i tanti ospiti non è passata inosservata la presenza dell'abate di Monte Cassino, Padre Donato Gliari. Già sono stato conquistato dalla bellezza di questo paesino, Vasto Girardi. Lo trovo un privilegio da parte mia essere qui per questa celebrazione eucaristica in onore sia della Madonna delle Grazie che di San Nicola e soprattutto anche in occasione di questo spettacolare Volo dell'Angelo. Ecco che anche questo per me è la prima volta. Il ruolo dell'Angelo quest'anno è stato affidato a Giorgia Antenucci. Quanti anni hai? Sette. Sei contenta di fare l'angioletto quest'anno? Sì. Quando ti ho detto che eri tu l'angioletto cosa hai provato? Molto emozionata, contenta? Sì. Cosa hai fatto in questi giorni per prepararti? Cosa ti hanno insegnato? Mi hanno insegnato tante cose. Le origini del Volo dell'Angelo da sempre appassionano gli studiosi di storia. Tra questi c'è Claudio Iannone che svela un particolare sconosciuto ai più. Vincenzo Liberatore era rimasto purtroppo molto indebitato, molto indebitato per la costruzione di questa chiesa perché evidentemente gli avevano promesso quattrini dall'America o dall'Italia, altri cittadini, che però non sono stati sufficienti per pagare tutti. E a un certo punto è rimasto talmente deluso dei suoi concittadini, della popolazione, che è fuggito, è andato in Argentina, si dice, probabilmente, e non è mai più tornato. Certo è che se oggi il paese alto molisano è conosciuto anche al di là dei confini regionali, lo si deve proprio a questo emigrante. Ma per fare turismo bisogna andare oltre il Volo dell'Angelo, ha detto il sindaco Andrea Di Lucente. Stiamo apprezzando anche la visita di tanti turisti che vengono a visitare Vasto Girardi, che ultimamente è stato conosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi diciamo tutto questo insieme a questa manifestazione non è altro che pubblicità, che marketing, nella speranza che il nostro territorio, non solo Vasto Girardi, ma tutto l'Alto Molise, venga apprezzato e venga visitato sempre di più. Bene, ci fermiamo su queste immagini, vi lascio alle previsioni del tempo, tra poco più di mezz'ora ci sono gli aggiornamenti e per ora è tutto, grazie e a più tardi.